Ci troviamo sopra le piccole terme in uno dei punti panoramici più belli della villa. Questa è la terrazza pensile a fianco dell'edificio con peschiera. Vediamo le sostruzioni del territorio con il padiglione panoramico e poi le grandi terme con la volta sospesa. Quello in fondo è il vestibolo, mentre quelle gallerie fanno parte dei percorsi sotterranei di servizio alle terme che abbiamo visto e riservati agli schiavi. Dietro i cipressi invece ci sono le piccole terme.